Ciao a tutti i trimersi, sono Francesca e bentornati sul canale, bentornati in un nuovissimo video di Adopt Me! Pica, 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 ciù! Oggi siamo tornati qui su Adopt Me, ragazzi, perché il 2 settembre è stato il mio anniversario su Adopt Me. Voi vi direte, Franci, ma non hai completato ancora i 365 giorni proprio qui su Adopt Me, perché come vedete sono a 343 giorni di fila. Ma in realtà io il 2 settembre qui sul canale ho pubblicato il mio primo, primissimo video di Adopt Me. Quindi oggi cosa andremo a fare? Andremo a provare a fare qualche scambio, come al solito, e poi, ragazzi, andremo a reagire insieme al mio primissimo video di Adopt Me. Cioè il mio primo video in assoluto di Adopt Me che ho fatto qui sul canale. Se quindi siete curiosi di vedere questo video, lasciate un bel mi piace adesso, iscrivendovi anche al canale, tappando la campanella, Instagram e TikTok li troverete giù in descrizione. Come giù in descrizione troverete anche il sito delle nostre magliette, il merch Never Stop Dreaming e anche i Stan Gaming Robux di sconto. Allora, quindi oggi ci connettiamo per il 343 giorno di fila. Prendiamo i nostri 100 dollari e siamo a 654 stelline. Quindi ce ne mancano 6 per il diamant. Eh, andiamo su close. Io sono qui. Che petto ho? Ho nessun petto. Ok, togliamo il nome dorato da YouTuber. Andiamo al centro, vediamo com'è la situazione. In realtà, lo sapete, Mythic Egg. Compriamo un piccolo Mythic Egg. Ci facciamo le mission scene senza problemi. Andiamo, rotola ragazzo, rotola. Rotola più veloce che puoi. Che sta succedendo qui? Uh, ok. Siamo in un server medio ricco. Proviamo a fare, allora, chi può fare scambi con me tutti? Vediamo se a qualcuno interessa magari una pozionecina. Qui scriviamo Trade Fried Potion. Secondo me non sono in un server ricco, eh. Perché, ok, abbiamo una richiesta. Oh, no, grazie. Il Pumpkin Stroller ce l'ho già. C'ero, giocavo già ad Adopt Me quando c'è stato l'evento, quindi non sono interessata. Nyon non ce l'ho, ma... Sperate, cosa? Ci sto. Dammi un secondo. Il cane Nyon non ce l'ho. Vai. Te la metto. Se lui ci sta, io ci sto. Ok. Il cane Nyon non ce l'ho, così adesso ce li ho tutti quanti, perché ce l'ho Mega Nyon. È normale. Compriamone comunque un bel po' di Pozioni Ride, perché se mi ricordo ci sono ancora gli sconti. Potremmo scambiarle un bel po'. Lui sta aspettando a me, vero? Scusami. Emily. Metto questa. Ma no, davvero? Davvero? Ma ci sto, ma ci sto alla grande. Ci sto alla grande. Ok, Emily. Sei sicura? Ok, è andata subito sul sicuro, ok? Allora, il nostro pet vuole fare la doccia. E la casa è chiusa. Quindi andiamo di fronte. Cioè, raga, ho una Pozione Ride per un Diamond. Come si chiama? Non è Diamond, per un Golden Dragon. È fantastico. Fantastico. Quindi c'è quanti? Picca, picca, picca. Allora, mentre tu fai la doccia, io capisco un attimo una cosa. Ho tre Golden Dragon. Newborn, Newborn e Newborn. Ho tre Golden Dragon, fighissimo. E poi Dog, con una G. Oh, ce l'avevo già a Neon. È il gatto che mi manca a Neon, allora. Ce ne ho due Mega, due Neon. Vabbè. Oh, sempre scambiabile. Per una Pozione poi ci sta la grande. No, questi ce li ho entrambi. Allora, mi sono completamente flashata. Vabbè. Franchi! 25K Lelec. Credo che sia un fan. Uh, questa non ce l'ho. Che carina! Vuoi anche mangiare? Vai, mangia così ti schiudi. Cioè, secondo me comunque ho fatto due trade abbastanza buoni. Soprattutto questo qui del Golden Dragon. Allora, tu sei una fenice, Mythic Egg. Tu sei assolutamente una fenice. Fratello, smetti di saltare sul mio uovo. Sei una fenice. Sappilo. Sei una fenice. Sei una fenice. Sei un'idro. Ah! Ok, Sweet Candyland. Food. No, grazie. Non mi interessa questa. Ce ne ho tante di chizzule. No, grazie. 25K Lelec. Credo che sia il fan. Perché prima ha scritto Franchi nella chat. 25K Lelec. Ha scritto qualcosa nella chat. Ma purtroppo non si legge perché è scritto Il filtro della chat sta riscontrando dei problemi. I messaggi potrebbero apparire in ritardo. Ti adoro. Questo è uscito. Quindi è davvero un fan. Ci so. Se lui ci sta, io ci sto. Perché questi non si trovano più. A volte riesci a fare bei scambi con le pozioni. Si riescono a fare davvero bei scambi. Anche carini. Perché la pozione la posso sempre ricomprare. L'Octopus invece ce ne ho solo tre adesso. Ce ne ho quattro. Ok, pensavo di averne di meno. Lo ammetto. Adesso andiamo a casa. E reagiamo al nostro primo video. Sono pronta. Sono carica. Sono carichissima. Andiamo. Allora, come vedete qui. Il mio primo video è questo qui. Pubblicato il 2 settembre 2020. C'è 120.000 views quasi. Grandissimo. Più di 5.000 mi piace. Wow. E si chiama... Il mio primo uovo. E pezzo Adopt Me. Vabbè, a parte la pubblicità, che la zambiamo. Cioè, ragazzi, ho sbagliato il titolo. Privo uovo. Cioè, privo. Non primo. Cioè, ho sbagliato il titolo. Va bene. Ho aggiustato. L'ho modificato. Andiamo. Lo schermo più grande. E andiamoci. Ecco, mamma mia, sono senza apparecchio, raga. Era un po' più magra. Ma va bene. Ma si può vedere un po' più in HD? No. Questa è già la qualità massima? Non mi sembra HD. Come si vede strano. Credo che avessi anche un po' di raffreddore, ma non vorrei sbagliarmi. Che ragazzi ho tolto la musica di sotto sfondo. Lasciando un bel mi piace e iscrivendovi soprattutto al canale. Non prendo una campanella per non perdere nessuna notizia. Ma, 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 ma. Cosa ho detto? E presto uscirà Pinghi 2 e farò tantissimo... Ah, ma. Ancora doveva uscire Pinghi 2. Allora, cosa c'è? Mamma mia. Ho fatto un vestito. Ma iniziamo, allora cambiamo. Questa mi piace. Io vi ricordo... Ok, se ci pensate, questa faccia qui è sempre... È rimasta la mia faccia. Ce l'ho sempre, ce l'ho ancora questa faccia. Bello il maioncino. Aspettate capisco. Questo è prima che io scoprissi che c'era la cosa general. Vedete? Pensavo che fossero solo quelli. Ok, lo sappiamo. Ricordo di essere stata 15 anni e cercare di capire. Oh, ah, bellissima questa. Questi capelli mi hanno colpito dal primo momento, se ci pensate. Mi hanno colpito dal primo momento. Guardate, ho scelto... Avevo già scelto i miei capelli. Cioè, mi hanno conquistato dal primo... Dal primo momento questi capelli. Mamma mia. Cos'ho combinato? Ma come sono vestita? Ho saltato il... Non ho fatto il tutorial. Mi ricordo che cosa è successo. Non so che cosa fare perché... Che avevo fatto? Avevo fatto l'accesso. Avevo provato a giocare. Poi non ho seguito minimamente il tutorial. Quindi io non sapevo minimamente. Avevo provato e poi... Ho fatto il vestito e poi ero uscito dal gioco. Quindi non avevo visto il tutorial. Però il gioco sosteneva che io l'avessi fatto. Quindi io ricordo, sono stata 15 anni a cercare di capire come avere lo starter egg. E già ce l'avevo. Già mi stavo iniziando a innervosire. Quando solitamente faccio così è perché mi sto agitando per qualcosa. Avevo la maglia del pigiama addosso. Io non avevo l'apparecchio, raga. A parte che si vede malissimo il gioco. Perché qui stavo registrando dal Mac. Non dal mio PC. Se ci fate caso... Oh, qui c'erano ancora i regali vecchissimi. Ok. Cioè ho saltato le pezze. Ecco l'uovo. Cioè, l'ho ignorato? Oh, era appena uscita la chizune. Com'è silenzioso però questo video. Cioè non c'è la musichetta di sottofondo. Avrei dovuto informarmi un po' prima. Bellissima. Wow, questo è un sacco, no? Grazie. Va bene. Dove? Big gift. Ok, andiamo a comprare il gift, ya? Big gift cosa? Ma cosa? In base a cosa avevo deciso che il big gift mi dava il pet? Ho trovato un bastoncino. Pensavo di aver trovato, che ne so, un... Ho bisogno di un pet per usare... Grazie. Guarda. Ho dovuto fare una ricerca e qui c'è stato che... Cioè ragazzi, ho dovuto cercare... ...che mi sembra... Ho dovuto cercare su internet... Cioè ragazzi, sono stata 16 minuti al registro... Wow, guardate, è vuoto, ragazzi. Oh, ok. Già ce l'ho l'uovo. Ma te l'ho, voglio l'uovo. Mamma mia. Non mi rendo conto. Ecco. Eccolo. Ah, start the... Ok. Ce l'avevo dall'inizio. Eh, non me ne sono accorta. No, mica. Ok. Sì. Cioè ho comprato il tè. Cioè ragazzi, non sapevo proprio giocare. Ho comprato il tè. Mamma mia. Mamma mia. Ok, ha bevuto il mio ovetto. È un... Cane. Ma... Sei mio? Ho avuto un cane? No, di chi è? Ho avuto un cane. Ok. Ragazzi, non avevo niente, mamma mia. Comunque, guardatemi come sono confusa. Yeah. Ho avuto un cane, però non sono... Io volevo un gatto. Ma va bene. Ragazzi, guardate come ero confusa. Mamma mia, ragazzi. Che cringe. Che cringe. Ah no, non avevo la maglia del pigiama. Sì. Sì. Quanti minuti per capire cosa devo fare. E avevo un inventario completamente vuoto. Cioè, invece adesso... In un anno, in un anno, in un anno, ho quasi completato tutto l'inventario. Mamma mia. Che stranissimo. Ma ragazzi, ma fatemi sapere pure se volete che io reagisca al mio primo video in assoluto qui sul canale. Mamma mia, mamma mia. Quello sarà un super cringe assoluto perché quello era anche addirittura sugli slime. Prima che iniziassi a giocare ai videogiochi. Quindi ragazzi, voi fatemi sapere da quanto tempo giocate ad Adopt Me. Io a questo punto è poco più di un anno che gioco ad Adopt Me ed è fantastica come cosa. Fatemi sapere voi da quanto tempo giocate. Fatemi sapere se riuscite a ricordare qual è stato il vostro primo pet. E se volete altri video del genere, se volete anche il video, reagisco al mio primo video qui su YouTube. Lasciate un bel mi piace adesso. Per iscrivervi al canale, tappate anche qui sul pallino. Mentre per vedere altri video presenti sul mio canale, cliccate qui sulle miniature. Io vi saluto e ci vediamo domani alle 15 con un nuovissimo video. Ciao!